Buongiorno, ben ritrovati alla rassegna stampa di Radio Piave, Luigi Guglielmi oggi ai microfoni e in video per chi ci segue attraverso i canali social dell'Amico del Popolo. Vediamo subito la copertina del Corriere delle Alpi che oggi non ha grandi notizie, è piuttosto autoreferenziale diciamo perché la fotografia grande in prima pagina come vedete è una foto panoramica con un concerto in alta quota, c'è una piattaforma, musicisti sullo sfondo le montagne di Falcade e il titolo è questo, un'estate a tutta musica con il nostro inserto e quindi si fa riferimento anche la grande foto di copertina fa riferimento all'inserto del giornale. Vorrei piuttosto passare al gazzettino di Belluno che in prima pagina dedica il titolo ai mondiali di sci. Mondiale di sci, lavori negli hotel è il titolone principale, le gare iridate ormai alle porte, la candidatura olimpica stanno spingendo gli albergatori a rinnovare le strutture. Questa è una questione di tutta rilevanza perché sapete bene che nelle settimane scorse c'era stato anche il timore che la risposta degli operatori della recettività non fosse adeguata rispetto alle richieste e alle attese del Comitato Olimpico Internazionale. Invece i segnali per un adeguato coinvolgimento degli albergatori ormai ci sono, sono chiari e si procede compatti nella direzione giusta. Nei progetti di ampliamento, dice il sottotitolo del gazzettino, la realizzazione di centri fitness che permettono di guardare ad una clientela più esigente. Leggiamo qualcosa anche dell'articolo di Marco Di Bona, che è anche collaboratore nostro dell'Amico del Popolo e che salutiamo e che è di Cortina, quindi conosce bene la sua realtà lassù. Gli alberghi ampezzani si rifanno il look in vista di Cortina 2021, nella Conca è tutto un cantiere con hotel che si rinnovano e pronti a soddisfare anche i gusti dei più esigenti. A Maillon sono state tolte le coperture al rinnovato albergo Miriam, a Ronco sono state completate a tempo di record le strutture in legno dell'ampliamento dell'hotel da Beppe Sello. Sulla strada 48 delle Dolomiti il Columbia ha aperto lo scorso inverno un nuovo e attrezzato centro benessere a Zuell. Sta per ripartire l'hotel Faloria, si lavora in via Cesare Battisti per ricostruire interamente l'hotel Impero. A poche centinaia di metri si vede il cantiere del Franceschi. L'ampia adesione alle garanzie di accoglienza alberghiera per i giochi olimpici e paralimpici invernali del 2026, è quello che vi stavo dicendo prima, e i numerosi cantieri degli hotel di Cortina per semplici adeguamenti oppure per radicali ristrutturazioni. Sono due segnali forti di rilancio per la categoria, secondo Roberta Alverà, presidente dell'Associazione Cortinese. In passato è il virgolettato di Alverà. Il nostro settore è stato spesso criticato, accusato di mobilismo. In questo momento vive invece un grande fermento. Quasi tutti stanno mettendo mano alle loro strutture, talvolta con interventi importanti o semplici adeguamenti e c'è una diffusa voglia di salire di categoria. Questo è molto importante. Negli anni scorsi l'Alto Adige ci avrebbe dovuto far scuola, ha fatto degli sforzi importanti per fare andare in su di categoria gli alberghi, passando magari da 3 a 4 stelle e da 4 e da 5, sostenendo economicamente in modo molto forte tra l'altro l'Alto Adige questo, il passaggio di categoria degli hotel. Belluno poco personale, il comune rischia il commissario. Uffici demografici al collasso, si rischia la revoca delle ferie, annuncia Marianna Pasini della Will FPL, addirittura il commissariamento del comune. Sono parole shock quelle della sindacalista che sta seguendo il caso dell'anagrafe sotto organico. Belluno in ospedale, liste d'attesa più ridotte, tempi di attesa contenuti per le visite secondo i dati pubblicati relativi al primo trimestre 2019. Rimangono però delle criticità, probabilmente anche alla mancanza di specialisti per endocrinologia, oculistica e neurochirurgia. Ancora titoli dalla prima del Gazzettino, aggredito dai tifosi davanti ai due figli, vittima il terzino Ivan Merli Sala, preso a pugni dagli ultrasti del Como. In nove di Como, contro un bellunese, la vittima il terzino Ivan Merli Sala, il calciatore del capoluogo che per più stagioni ha vestito la maglia gialloblu e ora in forza Lecco, squadra neopromossa in Serie C. Il pestaggio ieri pomeriggio allo stadio Sinigaglia della cittadina Comasca, dove si è giocato il derby Como Lecco, che ha permesso alla formazione di Merli Sala di andare in Lega Pro. Finito l'incontro, il bellunese, che era con moglie e figli, è stato accerchiato e preso a pugni da tifosi esagitati del Como, che sono fuggiti all'arrivo della polizia. Notizie veramente inquietanti, sappiamo bene che lo sport dovrebbe essere lontanissimo da questo tipo di manifestazione, perché questa non si tratta di un'aggressione per furto, per delinquenza normale, ma legata appunto al tifo del calcio, una cosa veramente assurda. Feltre arriva il giro per restare nello sport, piano sicurezza e mappa dei divieti. Centro di Feltre blindato da venerdì 31 maggio per il passaggio della diciannovesima tappa, la Treviso, San Martino di Castrozza e per permettere gli allestimenti legati al tappone Feltre-Croce-Daune. Feltre-Croce-Daune che è un evento nella storia sportiva della provincia di Belluno e che meriterà di essere seguito da tutto il nostro pubblico, da noi per primi insomma, proprio per l'importanza di questa cosa. Tinte verde granata sul campionato, calcio Juniors, Feltre agli ottavi di finale, altro titolo della prima pagina del Gazzettino, se volete c'è anche la foto dei ragazzi tutti esultanti per il risultato, giustamente esultanti per il risultato conseguito. Sedico, tornano i furti, ancora ride nei garage, queste sono notizie che vorremmo non dare. Ladri di biciclette scatenati ieri notte a Sedico, svaliggiano garage in centro, ricominciano le scorribande notturne come quelle che la scorsa primavera, fecero finire nei guai alcuni minorenni. Sparita una mountain bike e una motosega di tipo Husqvarna, non so come si pronuncia, nella zona di Mayeran per un bottino di 1600 euro. I ladri hanno colpito anche vicino al cimitero, nel garage di un condominio dove sono entrati in tutte le autorimesse, fuggendo in sella a una vecchia bici. In vent'anni che abitiamo qui non è mai successa una cosa simile, dice la residente di Mayeran. Allora, taglio basso in prima del gazzettino di Belluno. Il nuovo primario ai medici di base, più collaborazione, punterà all'interazione con il territorio, allo scopo il nuovo dirigente dell'unità complessa di medicina generale dell'ospedale del Cadore, Cristiano Perbellini, ha detto di voler incontrare i medici di base. Ha esordito così ieri il nuovo primario presentato dal direttore generale Adriano Rasi Caldogno e dal direttore sanitario Giovanni Maria Pittoni nella sede dell'ospedale di Pieve. Per Cristiano Perbellini è fondamentale il contatto con gli utenti, con i colleghi che lavorano in un contesto complesso, reso giorno dopo giorno sempre più difficile per l'invecchiamento generale. Cercherò di conoscerli personalmente è il virgolettato, c'è anche una foto di questo nuovo dirigente medico arrivato a Pieve, Cristiano Perbellini. Ultimo titolo che vi dico della prima del gazzettino di oggi, la pagina di Belluno che apre la sezione bellunese del gazzettino, Gosaldo smottamento minaccia una casa, già avviata la bonifica della zona, sotto osservazione la frana in località Ai Mori a Gosaldo che minaccia una casa. Ieri il sindaco giocondo dalle feste ha effettuato un nuovo sopralluogo, la provincia è già al lavoro per predisporre un piano di intervento per mettere in sicurezza l'area a smuovere tutto l'uragano alluvione dello scorso ottobre. E quante notizie stiamo dando relative a smottamenti, situazioni instabili ancora legate al famoso uragano chiamato Vaia dell'ottobre. Volevo farvi vedere una cosa, in prima pagina del gazzettino il titolone è governo ultimatum della Lega, Giorgetti così non si va avanti, chi vincerà le elezioni, si parla delle elezioni europee, detterà l'agenda come al solito, le elezioni che non c'entrano, cioè in questo caso le elezioni europee che non c'entrano nulla con il Parlamento vengono usate per stabilire quali possono essere gli equilibri e la Lega convinta di superare di gran lunga i 5 Stelle già annuncia che all'indomani delle europee bisognerà rifare i conti sull'equilibrio del governo che adesso procede secondo questo patto stabilito tra Salvini e Di Maio che vede le due forze politiche principali considerate alla pari in questo governo, invece a quanto pare si pensa già a uno strappo ancora a scontro sulla sicurezza, dice il gazzettino, il premier da Mattarella che chiede garanzie sui conti. ma sempre legato se volete a questo, volevo farvi vedere, adesso bisognerà però che io lo ritrovi, l'articolo, ah beh no scusatemi, sul gazzettino qui volevo mostrarvi quest'altra cosa, a pagina 7 troviamo un approfondimento che dovremmo veramente leggere per farci un'idea di che cosa succede nel mondo, delle strade che è opportuno imboccare, in Inghilterra e in Gran Bretagna sono al caos più totale per via del discorso dell'uscita dall'Europa, della Brexit. Regno Unito, voto nel caos, la May può lasciare già domani urne aperte per l'Europarlamento dalle 7 alle 22, con giura dei conservatori contro Downing Street, si dimette la ministra Leedsom, la premier prova a resistere ma il direttivo del partito può sfiduciarla e già la May è arrivata ad arrendersi l'altro giorno quando ha detto che in caso di voto positivo al suo piano di uscita dall'Europa, l'unica alternativa al no deal, cioè all'uscita senza un accordo che sarebbe estremamente pesante da sopportare per la Gran Bretagna. Ecco, come contropartita ha detto se non mi votate questo piano sono disposta a ritornare al referendum, infatti uno dei titoletti è proprio questo, dell'articolo la promessa, con la promessa di organizzare il referendum qualora i deputati decidessero a maggioranza di cercare di rovesciare il responso delle urne del 23 giugno del 2016, troppo per i conservatori che non sono riusciti in questi anni a riunirsi intorno a una proposta alternativa a quella della May ma che in questo momento non possono prendere atto del fatto che il premier è troppo debole per sbloccare una situazione che si sta incancrenendo. L'ultima curva di Teresa, dice l'analisi in basso nella pagina, il leader senza carisma ora è davvero rimasta sola. Insomma, in Gran Bretagna hanno combinato un guaio che se l'avessimo combinato noi italiani, permettetemi, ci starebbero deridendo tutti i giorni sui giornali perché veramente è incredibile il tunnel, l'imbuto in cui si sono infilati gli inglesi e che potrebbe addirittura vederli a un certo punto tornare indietro, tornare al referendum e magari cambiare idea sull'uscita dall'Europa. Una cosa veramente pietosa se pensiamo alla potenza che è stata nei secoli, che è tuttora la Gran Bretagna così potente da aver ritenuto giusto fare a meno dell'Europa e andare avanti per conto proprio. Adesso vediamo se riesco a tornare sul Corriere del Veneto, non tanto che non abbiamo tempo a pagina di Belluno che è pagina 16, ma volevo farvi vedere, dunque forse qui a pagina 3 se non ricordo male, eccolo qua e mi collego a prima quello che vi dicevo sulla Lega. In piazza per l'autonomia, sapete che ieri Zaia ha detto se non ci date l'autonomia torniamo in piazza. In piazza per l'autonomia? È un virgolettato. No grazie, ci pensi la Lega, la freddezza delle categorie. All'Assemblea di Confindustria i vicentini contestano Di Maio. Insomma non c'è più questo clima idilliaco a quanto pare sul discorso dell'autonomia anche perché sono emersi nel tempo i timori relativi soprattutto alla scuola, al mondo del lavoro, a certi ambiti del lavoro, insomma se il Veneto dovesse fare da sé. Questa pagina, ma il tema ritorno su tutti i giornali, lo trovate a pagina 3 del Corriere del Veneto, inserto del Corriere della Sera. Con questo mi devo fermare, sono andato anche lungo, credo. Grazie per l'attenzione, seguiteci su Radio Piave e su www.amicodelpopolo.it. Ciao a tutti.